In Forza Italia è iniziata l'operazione di pulizia etnica, articolo numero uno dettato dal Cavaliere, mettere all'angolo tutti gli uomini di Raffaele Fitto e renderli innocui, con buona pace per i risultati ridicoli che il partito in questo modo otterrà in Puglia, probabilmente destinato alla scomparsa. L'ex Delfino del Cavaliere, a proposito dell'investitura di Amoruso, responsabile delle politiche del Sud, parla di un'ennesima nomina calata dall'alto, con un tema come quello del Mezzogiorno, che viene declassato a uno delle decine e decine di incarichi di partito senza alcun significato. Poi la nomina di questa mattina di Luigi Vitali, a coordinatore regionale del partito. Vitali è attualmente coinvolto in due inchieste giudiziarie. Qui, ha detto Fitto, probabilmente non si spaventa nessuno di fronte ad altri errori di Berlusconi. L'ex ministro non demorda e prosegue. Noi andiamo avanti per ricostruire, rivolgendosi a Berlusconi, afferma. Caro presidente, purtroppo continui a sbagliare in una logica da distruzione e autodistruzione. A maggior ragione a Forza Italia serve e servirà la nostra iniziativa dei ricostruttori. Alle dichiarazioni di Fitto seguono i commenti del deputato Benedetto Fucci, il cambio alla guida di Forza Italia in Puglia e un effimero giro di nomine e promozioni interne al partito, osserva Fucci. Oltretutto deciso in modo autoreferenziale da un gruppo dirigente che ha finora compiuto errori politici gravissimi e consigliato male il presidente Berlusconi. La richiesta di azzeramento delle cariche di partito e di un autentico rinnovamento basato sul sistema delle primarie, portata avanti in modo leale e aperto dentro Forza Italia da Raffaele Fitto, prosegue Fucci, era volta ad ottenere ben altri risultati che sarebbero stati in grado di avviare una nuova fase per il partito e soprattutto per i nostri disorientati e sempre più delusi elettori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.